C'è stato molto interesse, vuoi perché comunque per il fatto che è mobile basta avere un appezzamento e lo si può mettere, le galline sono libere, comunque perché si regola autonomamente sia apertura, chiusura durante mattina, sera, quindi le galline sono praticamente autonome dopo un po' di tempo nello stesso punto si può spostare e quindi le galline hanno di nuovo erba fresca quindi molto interesse e vediamo la via giusta insomma